Giornata di ringraziamento, beh non poteva certo mancare Padre Paolo, il Vescovo di Sassari, buongiorno. Buongiorno. Ancora una volta ci si ritrova a parlare delle produttività, della Coldiretti e di tutte queste persone che tanto stiano da fare per portare avanti quelli che sono i pensieri ma soprattutto il lavoro di una Sardegna in crisi. Sì ed è bello perché voglio ringraziare anche la Coldiretti e l'associazione per questa presenza sistematica in questo periodo di crisi per aver dato un sapore tutto particolare al sardo delle nostre terre portando i prodotti e anche tanta gioia. Soltanto perché venivano date scontate lì in piazza Garibaldi oppure in piazza d'Italia ma soprattutto la gioia anche di vedere tante persone avvicinarsi ai prodotti della terra senza mediazioni. Padre Paolo queste giornate servono però soprattutto a fare una cosa importante, far conoscere meglio i prodotti della nostra isola. Sì ed è fondamentale, la Coldiretti tra le tante belle cose che ha, soltanto perché pedagogicamente diciamo anche a livello agricolo dice la grande verità del rapporto con la terra ma sta facendo scoprire la terra a tante persone, sta aiutando anche a far tornare i giovani la terra, sta aiutando anche noi sardi svegliandoci un po' di più perché riusciamo a vedere nell'etichetta anche il prodotto sardo, riconoscere il profumo, la specificità e forse anche il prezzo. Grazie a tutti!